buon pomeriggio a tutti sono in questo momento le 14 46 del 24 novembre e sono come avevo detto qualche giorno fa in una diretta sono a valenza quindi oggi mi sono preso una giornata di quasi relax nel senso che stamattina ho fatto anche un po di cose di lavoro mentre guardavo le sessioni di prove libere e in questo momento mi trovo in una sala vicino di fianco al paddock qui a valenza e sottofondo sentite la moto 2 che sta girando per la seconda sessione di prove libere avevo promesso che avrei cercato di fare una diretta non sono riuscito nella pausa quando non c'erano i motori e quindi provo a rimediare adesso sperando che l'audio sia accettabile sono in una sala il chiuso ma comunque un po rumore di motori se ne sente erano rimasti in sospeso ieri tre titoli quantum si che erano stati richiesti era un po di fretta per delle pressioni che stavo ricevendo da parte di un istituzionale e qui abbiamo il grafico giornaliero daily di quantum si vediamo che è un titolo che non è ancora definitivamente riuscito a svoltare in ottica di medio e lungo periodo vado a prendere quella che sono questa che è la principale resistenza sull'1.92 dollari vedete che è stata toccata una o due volte in presenza di un key reversal ribassisti nuovo massimo con chiusura in ribasso successiva correzione e poi poche sedute fa siamo arrivati nuovamente vicino a quest'area 1.92 si è formata un'ampia ombra e la resistenza non è stata avvicinata ma non toccata e di nuovo quantum si ha ricominciato a scendere essere debole quindi non è ancora arrivato il momento della svolta in chiave di medio e lungo periodo il titolo rimane presta il fianco ancora a discese movimenti ribassista e questo è invece il primo livello di supporto da tenere monitorato 1.36 che corrisponde a quest'area toccata già nel maggio e nel giugno del 2023 vado a rispondere anche a altre due titoli che erano stati richiesti ieri airbnb eccolo qua sulla nasdaq vediamo se riusciamo a caricarlo titolo che pure sotto resistenza meglio impostato dal punto di vista tecnico rispetto a quantum si però qui vedete che c'è siamo andati a prolungare questa resistenza che era già stata tracciata in una precedente analisi anche qui vedete che è stata avvicinata ma non abbattuta ci sono al momento ancora i presupposti che questa resistenza possa essere ulteriormente avvicinata vedete come qui vicino al livello se fosse in precedenza esattamente l'11 ottobre formato un key reversal ribassista anche in questo caso però la svolta di medio periodo non è arrivata certamente titolo che è meno debole rispetto all'altro che abbiamo appena visto e questo ha il principale supporto 113.17 in ottica di medio lungo periodo e infine altro titolo che mi era stato chiesto e poi ce ne sono altri ma che farò in una successiva analisi magari nel weekend zoom che tra poco partirà la moto gp che fa ancora più rumore e quindi sarà difficile riuscire poi a completare questa questa registrazione zoom communication andiamo a prenderla sul nasdaq eccola qua e vediamo che anche questo titolo purtroppo non è uno di quelli più in forma è un titolo che è riuscito a portarsi sopra questo livello che è stato supporto e ora resistenza però l'ultima candela che si è formata quella del 22 di novembre è stata una perché ieri era festa thanksgiving quindi giorno del ringraziamento degli stati uniti borse chiusa la candela del 22 vedete è stata una candela con una forte pressione ribassista meno 320 che si è riportata sotto alla resistenza servirebbe un consolidamento sopra i 64 dollari per poter sperare in un'accelerazione in direzione della resistenza successiva che sui 67.82 dollari ecco questo per rispondere alle domande che mi hanno fatto gli ascoltatori andiamo visto che ci siamo approfittiamo per un breve commento per quanto riguarda invece nasdaq lo andiamo a prendere tra i future andiamo a prendere appunto il nasdaq eccolo qua ecco questa situazione del nasdaq che continua a rimanere a poco distante da questo importante livello di resistenza che avevamo individuato eh d'altronde non è che sia particolarmente difficile individuare questa resistenza in prossimità dei massimi che erano già stati toccati eh lo scorso eh precisione se andiamo a prendere la data eh la data era appena riesco a togliere la finestra eccola qua eh il 19 di luglio del 2023 eh rottura della resistenza e sta cercando di consolidare il nasdaq eh però c'è ancora questo ipercomprato che eh lascia aperto lo spiraglio per un possibile ritracciamento verso i 15.945 eh comunque l'impostazione rimane positiva come ci siamo già detti eh potrebbe esserci la possibilità di avere magari smaltitoli per comprato di breve una positività dei mercati fino a metà di dicembre bene non mi dilungo oltre viste le difficoltà di questa diretta eh da da Valencia è tutto per il momento ci sentiremo poi lunedì eh con maggiore tranquillità da dall'ufficio eh consueto buon trading a tutti e buon weekend